Oggi qui a Scandiano si parla di educazione, all'alimentazione e al consumo, ma sono tanti altri gli argomenti che vengono affrontati in questi incontri pubblici, che si svolgeranno anche nelle prossime settimane, sicurezza per esempio, salute. Ecco, sono tutti organizzati dal sindacato pensionato dell'ospice GL e dai pensionati della CISL in collaborazione con l'Università del Tempo Libero di Scandiano. Quest'anno abbiamo, l'avamo già iniziato l'anno scorso, quest'anno abbiamo continuato con quella serie che sono i percorsi della salute, cominciamo Ossi, oggi con la dottoressa Montanari, proseguiamo in febbraio con altri due incontri e abbiamo ritenuto di avere come relatrici tutte delle donne, infatti sia quella di oggi che le altre due, perché quest'anno noi organizziamo anche un settore che l'abbiamo chiamato l'altra metà del cielo, noi abbiamo un'organizzazione ma abbiamo anche costruito una rete che già da parecchi anni in collaborazione con le altre associazioni che sono l'Auser, che sono anche la CISL, che sono l'Università del Tempo Libero, l'USL, il Comune. Con l'autunno abbiamo iniziato, abbiamo parlato di sicurezza, abbiamo inserito anche il discorso del 25 di novembre sulla giornata internazionale della violenza e abbiamo in programma già altre, oltre a questa, già un'altra serie di iniziative. Ecco, perché è così importante seguire una dieta ed essere educati al consumo? Sì, diciamo che l'educazione alimentare svolge un ruolo fondamentale oggigiorno a partire dall'infanzia fino alla terza età, diciamo così, perché sempre più avere uno stile di vita corretto, un'alimentazione appropriata ci permette di prevenire tantissime patologie, malattie, le malattie cardiovascolari, diabete, tumori. Sempre più c'è un'attenzione all'alimentazione perché sono stati trovati tantissimi riferimenti e correlazioni tra patologie genetiche, patologie anche secondarie con l'alimentazione. Quindi se io riesco a curare la mia alimentazione, sapere quali cose mangiare e in quali quantità, io riesco a curarmi. Quindi il cibo come cura, come terapia, come farmaco. Semplicemente eliminando o comunque limitando alcuni tipi di alimenti dalla propria alimentazione e praticando un'attività fisica moderata posso eliminare un farmaco, posso semplicemente migliorare il mio stato di salute. Consigli proprio spiccioli che riguardano non soltanto la dieta ma anche l'educazione e il consumo, cioè quali prodotti preferire e come comportarsi quotidianamente? Sicuramente un consumo consapevole sta nel leggere le etichette nutrizionali. È un prodotto del mio territorio? È un prodotto che viene prodotto in Italia, che viene dall'estero? Quale percorso ha il mio alimento? Quanti ingredienti ha? Ha un'etichetta nutrizionale molto lunga? Sicuramente da prediligere i prodotti locali, un consumo a chilometro zero, prodotti biologici, biologici però senza farci troppo ingannare dalla pubblicità.